Lo spunto del mio film è stata una storia realmente accaduta. Nella religione ortodossa, il 19 gennaio di ogni anno, in ogni città e paese della Macedonia, il Pope lancia una croce nel fiume e chiunque prenda questa croce avrà diritto ad un anno di fortuna e felicità. Cinque anni fa una donna si è tuffata e nuotando è riuscita a recuperare la croce. Quando ha portato con sé la croce e si è rifiutata di rostituirla è nato un bel caos poiché le donne non hanno diritto di partecipare a questa cerimonia.